Felice e prospero anno nuovo a tutte e tutti voi, care amiche ed amici miei, e da molto che mi proponevo trasmettere qui su Spreker. E quindi questo è il primo radioprogramma dell'anno, anno nuovo, podcast nuovo. Naturalmente ho dovuto cancellare degli episodi che voi potrete trovare in un mio canale di YouTube del brand che si chiama appunto Radio Podcast di San Ten Chan, quindi cercate in YouTube San Ten Chan e vi apparirà il canale nel quale sta. Spero che questo anno nuovo, 2022, sia migliore di quelli che abbiamo conosciuto negli ultimi due anni e ci dia finalmente come lieta sorpresa la speranza che tutti noi abbiamo, cioè che questa storia finisca il più presto possibile, perché proprio non ne posso più. Io che ho pazienza non ne posso più. Ho visto molte persone stare male. Però, io l'ho detto sempre, la spagnola è durata due anni, quindi sin dall'inizio di tutta questa storia di cui non faccio nome, io dicevo come minimo durerà due anni. Lo ha detto pure Bill Gates, per qualcosa sarà. Allora, bando alle ciance, io vi avevo annunciato già dal titolo che oltre gli auguri di un felice e prospero anno nuovo 2022, spero che abbiate trascorso delle liete e gradevoli feste, anche se le feste si protalerranno fino al 6 gennaio, che a Roma si celebra la Befana, ma in altre parti d'Italia, non so, i Re Maggi, Gesù Bambino. Bene, io spero che abbiate passato un buon Natale, una buona fine d'anno, un buon anno nuovo, che in pratica è oggi, primo gennaio, oggi sabato, primo gennaio 2022. Già un altro anno è passato e stiamo ancora con questi in picci che sappiamo bene essere iniziati a diffondersi a fine del 19, altrimenti non avrebbe 19 nel nome. Adesso voglio parlarvi, faccio questo programma che si caricherà anche in un canale mio di YouTube che è poco seguito, che si chiama appunto Radio Podcast of Sant'Encian, perché ho già caricato dei video nel mio canale principale e non voglio saturarlo di contenuto. Poi questo podcast magari importerà a ben pochi. Ho già parlato del caso anni fa, nel 2017, 2018, 2016. Per esempio, non so come si chiama il mio amico, mi viene sempre Iperione. Ecco, con il mio amico Iperione ho parlato, ho commentato i suoi video, lui ha commentato i miei, abbiamo parlato nei nostri video di questi discorsi, ho fatto dei radio podcast, ho fatto dei video parlando appunto di una persona singolare, che ha del talento, ma ha del talento un po' strano. Adesso fa dei video rassandosi la barba, per esempio. E in uno di questi ultimi video, Matteo Montesi, che già questi video nel mio canale, parlando di Matteo Montesi nel mio canale principale, e San Ten Chan sono poco visti, e dicevo Matteo Montesi, ha titolato il video Gli incendi di Matteo Montesi. Mentre si fa la barba, dopo una larga introduzione mistica, come ultimamente è il suo solito, è a me la piega mistica che ha preso il suo formato Non Mi Piace, vabbè che ce l'aveva anche prima, ma almeno prima faceva dei video molto corti, sembravano delle parodie. Poi si è messo a fare video molto più larghi, era addirittura di otto ore, allora ho lasciato di seguirlo, perché vabbè un bucaggio, un altro, ma andare in giro per i prati parlando otto ore, però appunto adesso parlava dei suoi incendi ed è stato per colpa di un bucaggio finito male che non so se l'hanno mandato a fare il TSO, è andato in carcere e adesso deve continuare a pagare una multa assalatissima per indenizzare la proprietà vandalizzata, perché è stato accusato di violazione di domicilio, di vandalismo e distruzione di beni mobili ed immobili. Lui si è voluto scusare in questo video che ho visto in questi giorni, ma la Madonna, ma ti sembra, che cattivo che sono, eh, ho appicciato fuoco nel camino, perché lui dice sempre che vuole purificare l'ambiente e io, se andate a cercare nel mio canale Sant'Enciana, gli ho fatto un video dove gli spiegavo se tu credi negli esorcismi, nelle purificazioni, devi stare attento, secondo quale criterio lo fai? Ti sei nominato da solo? Sommo sacerdote? Esorcista? Non è, non è molto facile. Io, io che sono ateo, ho studiato, per quanto mi è stato possibile, antropologicamente ed etnologicamente, le civiltà di tutto il mondo. E veramente venire a contatto con degli esseri bassi, con degli elementari, è molto rischioso, molto problematico. Puoi avere delle ripercussioni gravi. e lui dice che ha picciato fuoco e che si è soltanto fumigato l'ambiente. Invece, dalle immagini che il giornale nel quale lui collaborava ha trasmesso, proprio si vedevano i pompieri che andavano a spegnere un incendio e la struttura era rimasta calcinata. Quindi, in un certo qual modo, non ci sta raccontando tutta la verità. È solo un'apologia di sé che fa. Ma poi dice che il luogo era abbandonato e fatiscente. Ma se lo hanno condannato, non lo hanno condannato in base alla magnitudine dei danni che ha fatto, ma lo hanno condannato innanzitutto per violazione della proprietà privata. Perché va bene che quella casa che apparteneva, mi sembra, a una cartomante, era sotto sequestro giudiziario per fallimento per debiti. Però appunto apparteneva allo Stato. E poi, quindi, una casa che non è tua e tu ci entri senza permesso, anche se è abbandonata, se non è sotto sequestro, fai lo stesso a una violazione di domicilio. Soprattutto se la distrugge. E poi non importa in che stato si trovava la casa prima che tu gli dessi fuoco. Perché, è come dire che tu hai un cellulare vecchio di più di dieci anni che a malapena si accende e funziona e arriva uno e gli appiccia fuoco. Oppure lo usa in tal modo, credendo l'abbandonato, che lo inabilita a funzionare bene. E tu poi gli dici no, adesso compramelo nuovo. E lui ti dice no, era così rovinato che ti voglio dare cinque euro. Ma il cellulare era di alta gamma e costa adesso dopo cinque anni costa magari cento euro. Capito? Un Apple 6, un Apple iPhone 6 adesso costerebbe cento, centocinquanta, duecento euro anche se usatissimo. Cioè non puoi pagare quello che vuoi per una proprietà che bruci arbitrariamente. devi sottostare alla legge e quindi probabilmente gliel'hanno fatta pagare quasi come nuova. In pratica con quello che lui sta pagando fra multa e penalità la cartomante si è salvata dalla banca rotta perché in pratica lui va a finire che che paga la casa la magione quella e rimane una differenza che gli danno la cartomante quindi loro la mettevano in asta giudiziaria la vendevano a due soldi lui gli ha dato fuoco e adesso deve pagare da pollo che è un mucchio di soldi e quindi con quello ci guadagna pure la cartomante che si salva dalla dalla fallimento giudiziario perché non pagava imposte o per altre ragioni e rimane al fisco italiano la differenza quindi cioè ha fatto un grosso favore a quelli che non sapevano che farsene della casa perché appunto vecchia è abbandonata è fattiscente ma la legge non ammette ignoranze se tu trovi una macchina al ciglio della strada di una strada di campagna e gli dai fuoco non importa che avesse trent'anni e che fosse un catorcio ossidato e tu rischi di pagare il modello quasi come nuovo perché ti devono multare hai fatto un atto di vandalismo rintraggiano il padrone e invece di multare il padrone perché ha abbandonato un relito fattiscente in mezzo alla campagna che può risultare inquinante gli danno il suo rimborso perché la macchina magari sta anche a nome ancora a nome di qualcuno quindi bruciare cose è controproducente e fa guadagnare altri è inutile poi difendersi dicendo ma era una casa abbandonata era un'automobile abbandonato è come se tu ti perdi un cellulare e dopo tre anni scopri che qualcuno gli ha dato fuoco e tu pretendi che te lo ripaghi per nuovo non che vabbè è stato sotto la pioggia lo ha morso un cane si è si è distrutto ormai non è quasi funzionale come te lo dovrebbe ripagare no tu dici come si può provare che un cellulare non è più funzionale perché è rimasto alle intemperie o perché qualcuno gli ha dato fuoco bruciandolo il cellulare risulta che è inoperabile perché gli hanno dato fuoco tutti i danni che ha avuto prima perché è abbandonato alle intemperie non si possono registrare lo stesso vale per la cassa abbandonata bruciata involontariamente dalle purificazioni sante di Matteo Montesi perché come si può comprovare dove finiscano i danni dell'abbandono e dove inizino i danni del rogo dell'incendio involontario che lui dice involontario per molti è stato volontario perché è saltata una bombola del gas lui stesso lo ha ammesso quindi ammissione di parte rilievo di colpa lui stesso ha fatto il video facendosi la barba andatelo a cercare i roghi di Matteo Montesi e io lo vorrei scaricare adesso perché magari lo cancellerà prima o poi ma le cose che ha detto in quel video ti fanno pensare che lui assume la sua quota di colpevolezza capito perché altrimenti perché dovrebbe fare questi ragionamenti ancora a distanza di anni continua a fare dell'auto apologia dell'auto difesa ancora sente di doversi giustificare evidentemente c'ha la coscienza sporca perché altrimenti non penserebbe non penserebbe a stare lì a difendersi e a dire innanzitutto parla molto come un prete come un religioso ma chi lo ha nominato a lui sacerdote prete esorcista chi chi lo ha nominato c'è una gerarchia ecclesiastica alla quale deve rispondere o ci è o ci fa perché veramente ci sono molti imbassati come lui io non lo so perché altrimenti c'è da avere paura questo è una specie di talibano cristiano veramente che che va in giro appizzando fuoco senza dare senza rendersene conto appizzando fuoco di qua e di là come un fondamentalista cristiano del medioevo le sante inquisizioni le facevano coi roghi quindi stiamo attenti alla involuzione che acquista la sua psiche e adesso mi scadono i 15 minuti su sprecher vi saluto e se mi seguite in questo canale di youtube seguitemi anche nel principale Sant'Enchan arrivederci grazie buon anno nuovo arrivedoci